Culi di coreani Hola a todos chicos e bienvenidos a este nuevo video Oggi estoy aquí con mi amiga May Mi amiga May es de Colombia So quiere que ella hable español Porso le... Yeah, his Spanish is really good Bueno Gracias miles In tutto ciò io sono malato Scusatemi se parlo un po' peggio del solito Comunque hanno creato questo caffè in cui tu puoi stampare il tuo faccione sul cappuccino Ora mi dite se non è la cosa che serviva all'umanità in questo momento Si 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 infatti siamo tutti d'accordo E in più hanno aperto un pop up store delle Blackpink qui a Hongdae Che ora sta andando super viral in Corea E le Blackpink sono un gruppo coreano molto molto faico Ve li metto qui un secondo Comunque pare che ci sia questo store apposta tutto fatto rosa fichissimo Io mi sono messo in tiro tutto in rosa per fare le foto su Instagram Quindi insomma dobbiamo andarci giusto? Incominciamo! Seguimi! Mi è Crazy Jay su Instagram No 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 Seguimi è il finale del video No 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 L'introduzione È troppa pubblicità Sennò gratuita Non ci piace la pubblicità gratuita Ok ragazzi non ci posso credere Praticamente sto posto in cui te stampi la selfie sul cappuccino Sta nello stesso posto del museo dell'amore Quanti di voi si ricordano di quel video stupendo? Comunque vabbè ritorniamoci allora Tutto normale insomma all'ingresso c'è un tizio con il pirellino di fuori Ok questo posto è la festa dell'uva ragazzi Praticamente ci stanno i fucili per sparare Poi ci sta i pupazzetti Il tizio che ti va ai ritratti Che cos'è? Che aria è? Qui è una caparrata di robe completamente a caso e non coerenti l'una con l'altra Ma per questo mi piace Mi ricorda un po' il mio cervello quello che io mi immagino sia il mio cervello Ah ok eccolo qua Siamo arrivati giustamente il cafeis Si chiama cafeis Comunque sia è un posto fine ed elegante Con questo tizio che scatarra acqua dalla sua bocca Prima scegli che bebita vuoi e poi devi fare la foto con il cellulare Adesso capiamo come Se pagate con la carta costa 1000 won di più Non so perché ma Ok Velocidad mei Velocidad What? Can we take one together? I like this Mentre aspettate il caffè c'è un posto per giocare con un orto bianco Oh my god Veni per l'uomo che non deve chiedere mai Ti stai divertendo May? Si molto Anche lui Ecco May che arriva Cosa 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 No 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 Fammi vedere Ragazzi No vabbè Why do we look like we will have moustache here Like what the fuck Oddio What is that? Ragazzi è un cappuccino stupendo Ditemi cioè se non lo volete Chi è che non vorrebbe un cappuccino così Io adoro tutto ciò E ora arriva la parte food porn Cioè quella in cui io mi infilzo la faccia E ora il momento dell'assaggio ragazzi È un momento importantissimo nella storia dell'umanità Sarà buono il cappuccino selfie o no? Lo scopriremo solo vivendo Buono Buono Se devo descriverlo È Acqua calda Perché ho preso il cappuccino caldo Acqua calda Però Con più calorie Quindi che fa ingrassare Se acqua calda che fa ingrassare Quello che fa per voi Allora bevete pure qua Ok ragazzi Il caffè cappuccino selfie Era un po' una cacata Ma insomma Non è che proprio Da caffè selfie Mi sarei fossi aspettato Ecco robe grandiosi Cosa stai facendo May May stava toccando il pisello al tizio Adesso andiamo al posto delle blackpink Uh ci sono delle ospiti Ora vi inquadro Vi inquadro Andiamo al posto delle blackpink E ci vediamo dopo Questa è la fila delle nove di sera ragazzi Vabbè Lui è buono però almeno Ciao Siccome siamo fuori aspettare Facciamo zoom sui culi Culi di coreani May si è innamorata del tizio ragazzi Del culo del tizio O della sua faccia No Del suo culo o della sua faccia Ok May cosa stai guardando? Eh lo so io cosa stai guardando Brava 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 Questo è il nostro biglietto Ragazzi una cosa che non vi ho detto È che dovete venire un po' di ore prima Perché c'è la coda Per venire qua Quindi venite un po' di ore prima E vi daranno un biglietto Insomma al primo orario disponibile In questo caso Il primo disponibile era alle 8 Finalmente ci fanno entrare Dopo 32 millenni Luce Fotonici Vabbè ma guardate Ci sono gli alberi rosa Tutto ciò è stupendo Bello Guardate che figata Sembra il giardino del Del Le chave Le vendre Scherzavo tu entri Ma non ti fanno più entrare Poi basta Ti bloccano lì Ok ci ha fatto entrare Per la seconda volta Hi Thank you Thank you Che Che cos'è sta roba ragazzi Ma che è il Gardaland Bello Ci sono le facce Delle blackpink spaparanzate Sui muri Ah non avevo capito Questi sono biglietti Per fare le esperienze blackpinose C'è un muro fatto di martelli rosa Un muro fatto di martelli rosa Ragazzi il tipo qui è molto gnoccolino È molto gnoccolino Hi Ciao figone Ok la terza sezione è quella dentro sta bottega coi fiori e devi fare qualcosa Ah devi scrivere un messaggio Mai devi scrivere un messaggio Ok dopo che lasciate il messaggio salite su e ci sono altri due gnoccoloni che vi aspettano Qui c'è una zona foto e delle aree così Delle dark room insomma Allora Posso bel comprare questo? No No Non mi piace No Posso solo prenderlo? No Sono italiano I'm ok We're not ok Altra stanza Altro frenzolo Ciao frenzolo Ciao ciao Ci sono anche gli autografi delle Blackpink Non so se li vedete Manco io li vedo Non so come li vedete voi Ma ci sono Vediamo Altra stanza Altro gnocco Ciao 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 bro Ciao 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 Questi sono gli album Guardate che bellini Che bellotti May c'è il guapo che ti piace May il guapo che ti piace Il guapo si 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 vai 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 Can we win something? Oh ok They were first Prendi la sua parte Allora Yellow 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 gold It means contactless Oh Thank you Oh my god Oh Ok Which one is the best one? Blue Blue one Oh Oh Why What is What is No On your laptop Ok Quelle dietro di me hanno vinto il primo premio vi dico solo questo I nervi La rabbia Ok questo è tutto per questo video allora alla fine il cappuccino con la mia faccia sopra Cioè diciamo che a parte che era molto artistico a causa mia faccia non era molto buono però insomma divertente esperienza così così Eh il coso delle blackpink invece è molto figo vero? Esatto e quindi quello ve lo consiglio però venite un po' prima così prendete il biglietto per entrare un po' capito e gna 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 Ciao 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 What's my ending? Pizza pasta carbonara Right? Tu es una amica de mierda Nooo Tu es una amica de mierda Porque tu non conosce il final de mi video No no pizza pasta carbonara No no pizza pasta carbonara e tu culo No 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 la mierda Ma non ho capito Fare i tatuaggi in Corea è illegale ma l'accademia per imparare a farli è legale? Cioè che senso ha? È come se da noi ci fosse un'accademia per imparare a rollare la canna? Non lo so cioè ma...